Il primo dancer è lui, Michael! Dai Michael, facci vedere come si giampa! Vai, Michael! Avanti il prossimo che vuole giampare! E un applauso per Michael! Vai, Michael! Un grigio per le due! Dai tempo! Battete le mani! Avanti l'altro! Sì, Tommy! Vai, Tommy! Date la carica a questi due ragazzi! A tempo di ritmo! Dai, Tommy! Siamo tutti con me, ragazzi! E un giacfinito dal mezzo! Caravocci! E un giacfinito dal mezzo! Sippia! L'altro! Grazie a tutti.